Sicuramente amplifica le informazioni e ovviamente anche le bugie. Si diceva tempo fa che l'ignoranza è dovuta alla mancanza di informazioni e questo forse era vero tempo fa. Oggi con il web che rende tutti i collegamenti e tutto lo scambio di notizie molto più facile, l'eccesso di informazioni ottiene lo stesso effetto, cioè un'ignoranza dovuta a un eccesso di informazioni. Spesso le informazioni sono esagerate, a volte sono esaltate, a volte addirittura manipolate e per questo motivo soprattutto in campo di salute può essere molto pericoloso basarsi solo sull'informazione del web. È utile quindi a questo punto informarsi anche su fonti attendibili che possono esserci anche sul web ma istituzionali quindi medicalmente scientificamente corrette.